SIGEP 2023 continua, ci troviamo allo stand del gruppo Vaico e siamo in compagnia del suo CEO, l'amministratore delegato del gruppo Paolo Zunino. Paolo, bentornato. Grazie, buongiorno a voi e molto molto contento di essere qua di nuovo in questa bellissima fiera di questo nuovo anno. E allora ricordiamo innanzitutto il gruppo Vaico, da quali brand è costituito? Il gruppo Vaico è fatto oggi da sei brand, parliamo di Flammage per le sfogliatrici, Vitella per le spezzatrici e spezza rotonda, F2 macchine per impasto da pizze da pane, StarMix macchine planetarie, StarMix industrial planetari industriali e da poco la new entry, i tal forni sui forni per pizzeria. Vaico, White Art Italian Companies, è un gruppo che vuole racchiudere al suo interno le migliori aziende appunto per l'arte bianca con un respiro internazionale. Paolo, il 2023 con questa edizione di SIGEP rappresenta non solo per voi, ma davvero tantissimi altri player del settore una rinascita perché vanno via, vengono cancellati e l'affluenza del tanto pubblico lo dimostra e lo testimonia tutti quelli che erano i fantasmi del 2020-21-22. Siamo ritornati davvero ai stessi fasti del 2019, c'è tantissima gente, sono tantissimi i visitatori e sono tante anche le novità che il gruppo Vaico in questa edizione presenta ai suoi credenti. Allora tu sai benissimo che io sono scaramantico, ho sicuramente una discendenza napoletana, quindi ho il mio cornetto d'avorio, scusate di corallo. Devo dire che è stata una vera ripartenza e confidiamo che finalmente si è ripartito tutto il mondo in questa direzione. Noi oggi affrontiamo questo SIGEP, è veramente ricco, con tre grosse innovazioni, una sull'impasto da pizzeria, su una macchina specifica per il pizzaiolo, una su una macchina da panettiere in grado di pesare le materie prime, quindi condurre a un impasto qualunque operatore, e una spezza rotonda vitella capace di dare i panetti completamente chiusi, come siamo abituati a fare nella tradizione. Tant'è che anche l'Associazione della Verace Pizza Napoletana ha scelto di certificarla, pur essendo un processo molto difficile da ottenere in modo automatico. Allora facciamo una carrellata, tu parlavi appunto di un'attrezzatura specifica, ma avete tantissime altre attrezzature esposte qui in questo mega stand, e altre ancora che vediamo in sordina, quasi un po' nascoste. Avete davvero tantissima roba da proporre. Sì, sì, il nostro scopo appunto come Waiko è di riunire i migliori marchi e le migliori macchine per la filiera di pizza, pane e pasticceria, per cui noi oggi riusciamo a partire dalla farina e arrivare fino al prodotto finito, quindi sfornato, sia in un'ottica di produzione artigianale, sia in un'ottica di cateno di supermercato, dove invece serve un'automatizzazione un po' più alta, un personale che magari non è sempre del mestiere, quindi la macchina deve aiutare a raggiungere comunque livelli di qualità molto alti e molto elevati per restare sul mercato. Il 2022 ha rappresentato per voi anche un momento di rinascita, restyling dell'immagine e della comunicazione agli addetti ai lavori, innanzitutto partendo dal vostro sito. Sì, esatto, noi oggi abbiamo consolidato diversi marchi che vogliono essere forti nella loro unicità, quindi partendo anche dalla digitalizzazione vogliamo che i nostri clienti trovino innanzitutto l'utilità che trovano nei marchi Waiko e che poi portino a Waiko come gruppo, quindi come coordinatore, come aggregatore di un sistema per avere poi dei risultati incredibili nei loro ristoranti e nei loro punti vendita. E allora, per tutti coloro che desiderano avere maggiori informazioni, conoscere ancora meglio il gruppo Waiko, qual è il sito di riferimento per poterlo sfogliare comodamente e poi subito dopo qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per entrare in contatto con voi e chissà iniziare una nuova relazione commerciale. Certo, waikogroup.com è il sito istituzionale da cui poi si accede a tutti i marchi del gruppo e l'email è molto semplice, info-waikogroup.com Da lì, anche lì, si può arrivare sia al prodotto singolo sia alla filiera per magari aprire un nuovo locale o implementare i locali che già abbiamo. La cosa bella è venire qui e intervistare il CEO di Gruppo Waiko e poter essere in un'area dove è predominante l'odore della pizza che è quello che poi voi auspicate di fare nel miglior modo con le vostre attrezzature a tutti i pizzaioli, non solo quelli associati all'associazione pizzaioli veraci, naturalmente. Sì, esatto. Noi vorremmo che chi lavora in questo settore meraviglioso possa essere aiutato sia che sia un neofita, sia che sia una persona del mestiere, sia che sposi la pizza verace che è veramente l'eccellenza della pizza tradizionale, sia che vada su nuovi filoni che sappiamo nel mondo sbocciano e crescono. Per cui le nostre macchine sono fatte ovviamente per servire tutte queste varietà e ovviamente anche la tradizione più pura che noi riscontriamo poi nella pizza napoletana per eccellenza. E noi per rispettare la tradizione a ogni intervista al gruppo Vaico oggi ti scrucchiamo una delle pizze che abbiamo qui nello stand. Paolo, grazie per la cortese collaborazione. Grazie a voi, volentierissimo, e posso dirlo quest'anno senza portare male, forza Napoli! Tutti lo stanno dicendo, ma proprio tutti, che siano napoletani, che siano juventini come lui, il Napoli sta facendo davvero un gran campionato e grazie, grazie, scaramanticamente ti dico benvenga. Eh, le gufate ci sono arrivate alla Juve quest'anno, eh! Viva il Napoli, forza Napoli! Ciao, grazie a tutti! Ciao, grazie a tutti!